E' aperto il nuovo ristorante di Risto 3. 800 metri quadrati di superficie nel complesso commerciale del Top Center a nord di Trento. E' il decimo ristorante aperto al pubblico, gestito dalla cooperativa trentina, su 260 strutture totali. Arredamento moderno e non convenzionale, in modalità self-service, il ristorante è aperto per pranzo con un'attenzione particolare ai cibi di territorio. Dispone di 250 posti a sedere, alcuni dei quali molto social, dotati di supporto per i cellulari e prese USB per la ricarica. Risto 3, cooperativa con 1.300 dipendenti e 44 milioni di fatturato, è subentrata ad Autogrill nella gestione del ristorante Ciao Spizzico. I locali sono di proprietà dell'Unione Italiana Cecchi. Il ristorante è stato inaugurato alla presenza dei collaboratori, fornitori, numerose autorità istituzionali e della cooperazione. Un ristorante al passo con i tempi, ha dichiarato la Presidente. Siamo una cooperativa radicata sul territorio e vogliamo mantenere viva la qualità del nostro operare. Abbiamo acquisito 15 dipendenti che entreranno a far parte del nostro gruppo di lavoro. In parte rimarranno in questo locale, in una parte invece diventeranno anche un bene prezioso per quello che è la nostra cooperativa. In questo modo abbiamo comunque garantito dei posti di lavoro e questo è particolarmente importante in una fase che comunque da un punto di vista occupazionale sappiamo che è abbastanza complessa. Siamo un'azienda che sulle persone investiamo tanto e speriamo in questo modo di continuare a crescere, non solo di numero ma anche di qualità sociale, valoriale delle persone che fanno parte della nostra cooperativa. Uno sguardo anche alla politica ma per ragionare soprattutto sul fronte economico. Nei giorni scorsi le celebrazioni per la festa dell'autonomia in città. Era presente anche il politologo Sergio Fabbrini, docente universitario. Fabbrini che ha sottolineato l'importanza dell'autonomia trentina e dell'Europa unita per il bene di tutti a partire dai trentini. Sentiamo l'intervista. Siamo un'intervista. Siamo un'intervista.